Ciao raga, mi è arrivato un pacco, cosa dici? C'è l'opera, non c'è l'opera Ok raga, apriamo il pacco Ohhhh Ohhhh Saga, sta iniziando a prendere forma Devo attaccare la spina all'elettricità perché se la metto nel c***o non va Ohhhh 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 Raga, questo è il Forza 4 gigante gonfiabile L'unico ad averlo in Italia Per ora Niente raga, quindi il video finisce qui Volevo farvi vedere giusto questo gonfiabile nuovo che ho comprato Per la mia SRL che sta iniziando a fatturare È il primo mese ormai che ho aperto Lo spazio lo condivido con un'altra azienda Quindi infatti vedete altro materiale Quindi per oggi è tutto, non so più che cosa dirvi Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao